Visto che ci avviciniamo alle feste anche per suggerire un regalo, qual è un libro che suggerirebbe ai nostri ascoltatori, di qualunque genere, tipo? Allora, la prima risposta che mi viene è Il Padre Terra è liberale, perché è tutto di Porro. Porro, sì. Era liberale. Era. Era liberale. Era liberale. Era liberale e in realtà credo che un bellissimo libro sia Mille piccoli indiani, credo sia questo il titolo corretto. Quello è, secondo me, un libro carino per le vacanze del Padre.